Non ci sarà giustizia, almeno in questo mondo, per Esther Pasqualoni. Le forze dell'ordine messe sulle tracce dell'assassino dai testimoni dell'omicidio sono arrivate troppo tardi nell'appartamento di Via Baracca a Villa Rosa di Martinsicuro, dove Enrico Di Luca, 69 anni, ex investigatore privato, ha scelto di togliersi la vita strangolandosi con una fascetta di plastica, forse poco dopo l'omicidio. Parcheggiata sotto casa è stata ritrovata la 106 Bianca, con cui, ieri pomeriggio, armato di una roncola, aveva raggiunto l'ospedale di Sant'Omero. Era lui lo stalker che il 24 gennaio del 2014 la 53enne oncologa di Roseto aveva segnalato con un esposto al commissariato di Atri e verso il quale c'era stato un provvedimento di ammonimento da parte del questore di Teramo con contestuale sequestro del porto d'armi. Evidentemente troppo poco per cancellare dalla mente dell'uomo l'ossessione per la dottoressa responsabile dei ospital oncologico dell'ospedale della Val Vibrata. Si conoscevano dal 2005 e, come dichiarato alla polizia dalla stessa dottoressa, tra loro c'era una relazione di amicizia decennale. Amicizia sempre più morbosa, diventata patologica quando a fine 2013 l'uomo ha iniziato con pedinamenti e messaggi insistenti. La dottoressa si sentiva spiata e aveva paura, avendo anche perso il marito due anni fa ed essendo mamma di due figli piccoli che oggi hanno 11 e 16 anni. Nell'esposto per stalking, però, non si parla di aggressioni o minacce, ma di attenzioni insistenti e continue, suffragate da testimoni subito ascoltati dagli investigatori. In via Baracca di Luca lo conoscevano tutti ed era amico di tutti. Prendeva il caffè sempre al solito bar e i condomini spesso... E i condomini spesso gli lasciavano anche le chiavi delle proprie abitazioni perché si occupava di piccoli lavori. Un insospettabile, insomma, secondo un cliché ormai consueto per questi fatti di sangue. Mai ho avuto il sentore che potesse capitare una cosa del genere, anche perché sembrava una persona normalissima a tutti gli effetti. Come ho detto in un'altra intervista, la stessa cosa ripeto a voi. Era un uomo di un'educazione, non dico unica, ma come tutte le persone normali.